Ancora il pallone alla Salernitana, 67-33, non si muove la panchina del Verona. Del resto, Grosso, cambiando i due centrocampisti, si è un po' incasinato la vita. Attenzione, adesso loro, Migliorini, Traversone! Il gol della Salernitana, il gol della Salernitana però Silvestri, un Traversone o viene fuori o sta in porta, ma ha lasciato tutto libero Yalou, incredibile, incredibile. Speriamo che si svegliano ora, con il giocatore. Adesso vediamo cosa fa in attacco, adesso deve per forza fare il cambio adesso se vuole, dato che c'è ancora 20 minuti. L'atteggiamento comunque a Salernitana è quello di portare a casa il pareggio, non... Palla nell'aria piccola, è un errore, è un errore. Camaccio, lo Silvestri, palla nell'aria piccola, il portiere, quella palla. Palla piccola e il portiere, sono d'accordo. Sì, ho smetto Silvestri non chiamare l'uscita, stessa cosa per la Salernitana. Non è un'azione dove la Salernitana voleva fare gol, questa qui era una palla tranquilla messa lì. E trascoma che c'è quello di Crescente prima. Si è tolto la maglia Yalou quindi viene anche ammonito. Vedi Aldo come sono le partite. Ma te l'ho detto, il primo errore, il primo errore lo fai. Dai Tupta, vai abbatta questa punizione, dai battemola in pressia, che passi ai minuti, dai! La sconfitta è incredibile, incredibile. Tupta, va lui, barriera, attenzione, la palla lì! No! Quello! La ribia, colpo sicuro, la ribattuta! No! No, ma chi è che l'ha presa lì? Il portiere, è partire. Il portiere, è partire, è partire. Incredibile, incredibile che non l'abbiamo messa dentro. Il tiro è distinto, c'è andato, c'è creduto e l'ha presa. Però la palla è lì, vediamo, a tutto sicuro va al portiere. Mikai ha fatto un miracolo pazzesco. Con i piedi, con i ginocchi e le brevi. Incredibile, una carellata. Sì, sì, è finita la parola. Stiamo ancora vedendola, però è finita. Perché ha concesso un altro minuto di recupero in più. È finita, è finita, abbiamo perso la partita. È finita, l'abbiamo perso. Hai ragione. E quindi siamo ammareggiati. La prima sconfitta di questa stagione. Ma sì, ma te l'ho detto. Quello che dà più fastidio, come l'hai persa? Praticamente hai in riga i tre punti. Oggi.